Da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche questo supporto dei libri, di questa collana, di questa collezione dei tesori d'arte delle chiese nel Bellunese, partita qualche tempo fa e che è arrivata all'ottavo volume che presentiamo quest'oggi, che riguarda la Sinistra Piave, un altro spazio, un altro territorio della nostra provincia ricco di queste opere d'arte, sia da un punto di vista di edificazione, sia per quanto riguarda il contenuto delle stesse. Si dice che un buon padrone di casa accoglie e dà il benvenuto ai suoi ospiti, allora tocca a me questa sera perché qui siamo in una chiesa, la chiesa di Cesana, che è della parrocchia di Lentiai. Allora siete benvenuti, sia chiaro non sono io il padrone di casa, è quello che sta sopra tutti noi, anche sopra i vescovi. Ma in questo momento era impegnato, non poteva venire. Ma faccio il portavoce. Questo mi fa pensare che le nostre realtà ecclesiali sono ben consapevoli di essere custodi, proprietarie di questi beni, di gioielli dal punto di vista artistico, storico, forse però sono non del tutto sufficienti o non sempre convinte anche del valore pastorale, catechetico di queste opere. Noi sappiamo bene che questi capolavori sono nati come la Bibbia dei poveri. Oggi si possono considerare una catechesi spicciola. Io oserei anche dire una catechesi per i pagani, perché per alcune persone che le visitano, e non poche persone, questa è l'unica catechesi ascoltata e accolta. Beh, gli amici di Cesana, che tanto si dedicano anima e corpo per il bene di questa chiesa, che è il fiore all'occhiello, ma anche è il loro simbolo, ecco, diciamolo è di tutta la comunità cristiana, è un bel esempio di associazione, di collaborazione, che ha a cuore il proprio territorio, le opere e la propria storia. Ripeto, un bel esempio. Il testo parla di tesori d'arte nelle chiese del Bellunese. Beh, se mi permettete una battuta dissacrante, la prima cosa che mi viene in mente è che i tesori questa sera innanzitutto siete voi. Voi presenti qui questa sera. Perché con la vostra presenza qui non fate che avvalorare i tesori che già esistono, il sottolineare la loro esistenza, e soprattutto dar modo di avere la continuità della valorizzazione di questi tesori. Noi qui ci troviamo in questo bellissimo luogo che non è soltanto un mero contenitore, ma è anche un luogo sacro, perché l'arte si presta molto a far diventare materiale quello che è la spiritualità, e quindi trova terreno fertile in tutto quello che è la religiosità e la spiritualità. E noi abbiamo la fortuna di avere in tutto il nostro territorio, in tutta la nostra provincia, chiese meravigliose come questa, ma ne abbiamo ad ogni piesso spinto. Quindi il fatto che questa sera qui la presenza sia così numerosa, vuol dire che alta è l'attenzione verso questi tesori che noi abbiamo. Mi congratulo sempre con gli amici di Cesana e con tutti quelli che hanno lavorato a questi vari progetti. in realtà non è uno solo. Questo è un gioiello, uno dei tanti, concordo con chi mi ha preceduto, che ha già sottolineato le valenze, la bellezza, non è solo una questione artistica, una questione di spiritualità anche profonda. Questo essere lungo la sponda di un fiume e trovare il luogo di incontro, di connessione, è stato detto di messa in rete. Ecco, sinistra piave magari è un po' provocante come espressione, ma dice per me che percorro questa via, questa sinistra piave, tantissime volte, è un po' emozionante così questa sera aprire questo scenario di tesori d'arte, insomma, perché tu vai in viaggio, fai un percorso e sai che calpesti, dico così per calpesti, un luogo sovraccarico di vitalità, di genialità, di storia, di vicende. Ecco, questa è un po' la sinistra piave che io questa sera così percepisco e sento, percorrendola così tante volte. Qualche giorno fa, era il 31 maggio, scendevo dal Nevegal e mi sono trovato la chiesa di San Mamante aperta, ho visto la porta aperta, sono entrato e la sensazione fu proprio di così, intanto la sorpresa. e poi, tra l'altro, una chiesa che pare così sfuggire perché è lungo la strada, è messa lì, entri e vai in un'altra atmosfera, cioè la sensazione di trovarti in un'altra dimensione. Ecco, io non so, mi sto chiedendo, ma possono essere aperte queste, come viene gestita così la possibilità di entrare e di sprofondare in queste atmosfere di cui abbiamo tanto bisogno. No, la pongo come domanda, perché resti vivo, perché i tesori d'arte siano proprio esperienza che proprio ci prende dentro, ci coinvolge, di cui abbiamo tanto bisogno per allargare un po' le dimensioni della vita ordinaria. E viva la sinistra piave! E una cosa, Don Renato? Io ho seguito fin dall'inizio, non sapevo chi li avesse fatti, ma li ho sempre apprezzati e ho invidiato la diocesi di Belluno proprio per questi libricini che fin da quelli che si erano usciti con la spiegazione delle chiese di Vigo, del Comelico, poi del Zoldano, ecco, mi hanno portato a visitarli e a scoprirli. il seminario di Treviso in cui ho fatto tutto il mio, aveva una casa a Lorenzago di Cadore, nel Bellunese, quindi il Bellunese lo conosco molto bene, però io non conoscevo la chiera di Sant'Orso, la parrocchiale di Vigo, quella da chiesetta in Val Taragona, di Laggio. Le ho scoperte proprio grazie a questi libretti e ho continuato via via con le chiese poi del Zoldano e poi quando sono arrivato qui a Vittorio Veneto con queste chiese ogni tanto telefono a Don Giacomo e le dico Don Giacomo ma che Umin Celarda sono nomi mai sentiti, ci sono cose meravigliose. Sorriva, Servo, Lamont e tutti sono catalogati, questi sono preziosissimi, non discuto su questo che è ancora più bello, però per l'utilità credo di ringraziare e di dare un plauso a quelli che hanno fatto questa roba. Qui questa sinistra Piave che anch'io ho conosciuto quando sono arrivato dieci anni fa ha una concentrazione straordinaria, straordinaria. Basta pensare che qui in questo luogo nello spazio di poche centinaia di metri oltre a questa meraviglia che chissà che col tempo possa ancora essere abbellita e riscoperta pienamente c'è Milapiana, c'è Colderù, c'è Follo e come dico nell'introduzione scrivo 55 chiese nelle parrocchie di questa vallata qui di questa vallata zomellese appartengono alla diocesi di Vittorio Veneto 55 tra chiese parrocchiali una più bella dell'altra Lentiai meravigliosa ma anche trichiana Mel e poi tutti questi tesori quindi in questo senso qui questo ultimo libretto non so quali tasselli manchino spero che possano essere compiuti anche quelli ma certamente questa è un'opera molto molto bella che ha visto la diocesi di Vittorio Veneto diciamo che è stata chiamata a partecipare a questa iniziativa di cui il plauso è davvero e l'ammirazione vanno alla provincia vanno alla diocesi perché c'è stato Monsignor Savio mi pare all'origine di questa intuizione che è nata da più voci sia civili ed è bello che questo sia anche religioso quindi grazie davvero per questo lavoro che non so in altre diocesi italiane non ci sono ci sia penso che sia un unicum penso io non lo so se qualcuno può dirmi ed è un esempio che stimola l'ultimo pensiero molto veloce e questo mi aggancio a quanto diceva il parroco Don Luca queste bellezze questi tesori d'arte non sono dei semplici manufatti ma sono manufatti che esprimono una spiritualità un'esperienza religiosa e quindi io credo che siano comunque un'opera d'arte di fronte alla quale qualsiasi persona apprezza pensate questa qui è un piccolo paliotto di altare di cuoio dipinto molto piccolo ma guardate la bellezza che che traspare quindi non lasciamoci rubare la bellezza però non lasciamoci rubare anche la bellezza che nasce dalla fede perché questa può diventare un veicolo anche oggi di testimonianza e di di ricerca e di esperienza spirituale grazie di nuovo a tutti mi auguro che questa bella iniziativa possa portare frutti non solo estetici ma come dicevo anche spirituali ma signor Pizziolo una cosa solamente però una volta che si scoprono i tesori poi bisogna anche metterli a disposizione quindi c'è tutta questa attività di mantenere aperti e liberi certo è lo sforzo che stiamo facendo anche anche riguardo ad altre ad altre ad altre chiese penso alla chiesa di San Pietro di Felletto penso alla chiesa di Castello Roganzuolo penso alla chiesa e al salone dei battuti e così oppure alla chiesa della Mattarella Cappella Maggiore sono gioielli straordinari attorno ai quali è nato un gruppo di persone custodi della bellezza e che la usufruiscono questa ha la fortuna di avere gli amici di Cesana che sono stati già nominati ma nomino anch'io sottolineandole la bravura perché hanno saputo davvero animare il restauro e trovare i fondi a destra e a manca bravi però è importante è vero stiamo cercando di farlo bisogna fondarsi sul volontariato perché non c'è alternativa farò una rapida carrellata sui contenuti del volume dico rapida non potrò approfondire perché è un volume particolarmente ricco in questa edizione consta di ben 14 interventi 14 interventi di argomenti diversi in questo caso in questa edizione abbiamo in qualche modo ricompreso nei percorsi già sperimentati nelle edizioni precedenti apprendo anche ad elementi nuovi che ancora non erano comparsi nelle precedenti edizioni dei tesori d'arte mi rifaccio al titolo lungo della nostra istituzione archeologia belle arti e paesaggio in particolare l'archeologia disciplina che nelle precedenti volumi era stata in parte trascurata rientra a pieno titolo nel disegno di questo volume proprio in relazione al complesso cantiere di restauro che ha avuto luogo nel posto che ci ospita in questo momento Cesana che non solo la chiesa di San Bernardo ma tutto il contorno di quello che era la sede di un'antica contea che ha avuto una continuità una continuità a partire dal 1175 fino al 1805 è stata oggetto di un restauro che non è stato finalizzato solamente al recupero della materia della chiesa delle decorazioni ma si è ampliato a un momento di conoscenza ampio della storia della località è un video un brevissimo video confezionato dalla collega Silvana Rotondo che espone in maniera molto sintetica dura tre minuti quelli che sono stati i cantieri di diretto intervento della soprintendenza interventi di carattere architettonico negli ultimi anni nel territorio della provincia bellunese la tipologia edilizia della chiesa di San Simon riflette il carattere alpino dato da una facciata essenziale e dalle linee slanciate del campanile cuspidale l'interno è come uno scrigno magico custodisce un ciclo di affreschi del primo 500 eseguito da Paris Bordon ed è arricchito nell'altare maggiore dal flugelaltar e dall'organo ottocentesco del maestro veneziano Callido la chiesa di San Floriano si trova incastonata in una cornice naturale su un'altura dove dai pendie e bosi si innalzano spogli ed imponenti rilievi che dominano la ballata da un lato la piramide del pelmo e dall'altro il gruppo montuoso del civetta il percorso che da forno conduce a pieve si dilata improvvisamente nel sagrato della chiesa la facciata interamente affrescata nel 1560 è caratterizzata da uno zoccolo lapideo che funge da basamento all'intelaiatura architettonica secondo alcuni studiosi locali il sito dove oggi sorge la chiesa di San Donato sarebbe stato interessato nell'alto medioevo da un antico passaggio militare verso le prealpi il complesso edilizio si sviluppa lungo uno stretto pianoro evidenziando un'aggregazione in linea di tre nuclei principali di diversa datazione con l'ampliamento in altezza avvenuto nel 1744 vengono aperte delle finestre a mezzaluna e soprattutto viene inserito l'arco di trionfo creando così una zona absidale convolta a crociera l'iscrizione datata 1686 riporta come residente a San Donato Pietro Geronazzo l'eremita di Sant'Agostino si fa riferimento a questo periodo per ipotizzare l'ampliamento dell'edificio religioso che rimane inalterato fino al 1780 vedere le immagini vedere prima del restauro la prima volta che sono entrata in questo ambiente lo so bene dottor Maioli lo smarrimento era totale però poi siamo storici dell'arte e quando c'è su un muro c'è un'immagine e allora è la storia che vive e lievita e si fa vita viva e presente allora arrivare all'appuntamento di oggi è come avere una bella visione e avere anche il ricordo che la forza di quel sopralluogo antico ma la forza veniva delle persone che erano insieme a noi quindi sentire che c'era una forza intellettuale di chi conosceva la geografia la topografia e tutto e di più della storicità del luogo ho un altro ricordo che è indelebile forse ancora più profondo nel senso dell'intimità entrare in una chiesa vuota quando ancora il restauro non è fatto ed è l'eremo credo che veramente l'eremo è il recupero di quel luogo che è di silenzio di solitudine ma nello stesso tempo che rinvia a spazi infiniti ecco quello è un ricordo che mi è rimasto nell'animo a spazio